Gustavo Bavaresco esordisce con una vittoria, con una buona prestazione. Ancora magari è presto per dire qualcosa di più approfondito, però qual è stata la tua prima impressione del gruppo, dell'ambiente e della squadra? Penso che abbiamo lavorato bene la settimana e qua è una partita fuori casa comunque difficile. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, un 3 a 1, poi nel secondo tempo siamo riusciti a esprimersi meglio e abbiamo fatto un 6 a 1, l'importante era vencere. Pensiamo alla prossima partita che è importantissima per il nostro campionato, lavoriamo fuori nella settimana per chiudere questo Natale in bellezza. Cosa ti aspetti di poter dare al gruppo D&G per arrivare all'obiettivo finale? Io sono arrivato per aiutare la squadra, per sommare ai ragazzi. Quello che loro stanno facendo è un lavoro stupendo. Io sono venuto per aggiungere qualcosa loro e speriamo di fare bene e portare e raggiungere gli obiettivi di questa società. Grazie.